Buon pomeriggio, mister Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Che picilia è? Insomma, siamo a poco più di 24 ore da quanto è successo ieri in seno al Consiglio di Stato e siamo a poco meno di 24 ore dall'esoglio in campionato. Quali sono le tue sensazioni? Grazie. In merito di entrambe le questioni. Me l'aspettavo, la domanda è sulla sentenza, me l'aspettavo che fosse la prima. Ti rispondo che non ho commentato quando ci hanno messo in serie B. Io faccio, o meglio, provo a fare l'allenatore, non faccio l'avvocato, non ho letto tutte le carte e quindi faccio fatica a darti una risposta di quello che è giusto o quello che è sbagliato. Di sicuro, e dico questo con cognizione di logica, non bisognerebbe trovarci in queste situazioni. Io sono quello che è stato escluso dal campionato a tre giornate dalla fine con il Catania. Non esistono le mie panchine fatte con il Catania di quella stagione. Non esistono i 21 gol di Moro, ma soprattutto è retrocesso a una squadra come la Paganese che contro di noi aveva fatto sei punti e gli sono stati levati a tre giornate dalla fine. Quindi stiamo parlando veramente di un paradosso. Questa non è quella situazione, è una situazione diversa, ma è inutile dire che non bisognerebbe trovarci in queste situazioni. Oltretutto ci troviamo in una situazione dove noi giochiamo domani sera alle 8 e mezza, il mercato si poteva far chiudere alle 11 invece si fa chiudere alle 8 e se io metto in lista all'arbitro alle 7 un giocatore e alle 7 e mezza lo chiama il suo procuratore che è stato venduto, come la studiamo? Sono tutte cose che secondo me andrebbero sistemate in maniera diversa, ma io per preparare una partita, e qui si ragiona sul rispetto del lavoro di una persona, io per preparare una partita mi ci vuole una settimana o una giornata intera per prepararla in maniera cartacea o se mi si leva un giocatore a mezz'ora dall'inizio della partita mi tocca rivoluzionare tutto. Sono cose che non hanno una logica e su cui bisognerebbe lavorare meglio. Tutto qua. Il cammino del Perugia inizia in un posto che ha te caro per varie ragioni e ti chiedo quali sensazioni ci saranno a tornare al Porta Elisa e che partita ti aspetti naturalmente. se hai avuto modo di studiare l'avversario e che tipo di squadra di avversario dobbiamo aspettarci. Grazie. Enrico Panelli. Ciao Enrico. Anche lì ci sono due facce della stessa medaglia. Io nasco nel settore giovanile e quindi vado alla Lucchese a 13 anni, quindi piccolissimo e faccio tutto il settore giovanile fino alla prima squadra. Ero un tifoso clamoroso della Lucchese e ho amato il mio percorso fino arrivare in prima squadra che poi è quello che mi ha portato a giocare nella Juventus. Da allenatore ho dato le dimissioni dopo non so quante partite, quindi il percorso è meno bello. Sicuramente ritornare a Lucchese è sempre un fascino per me importante, ma perché ho fatto la mia giovinezza, non sicuramente per quanto riguarda il fatto di averci allenato. L'avversario in questo momento siamo alla prima giornata e valuti le amichevoli perché non puoi fare altrimenti, non abbiamo giocato le partite di Coppa Italia, è logico che ci sia arrivato come sarà arrivata alla Lucchese il video sulle loro amichevoli, abbiamo studiato quello, però anche loro insomma sono messi come noi, hanno cambiato tanto, continuano a arrivare i giocatori anche a loro anche in questi giorni, quindi sotto il punto di vista della preparazione della partita è diverso da preparare una partita alla quarta giornata di campionato, ecco quindi dovremmo essere bravi ad aspettarci più cose, abbiamo lavorato per più cose e quindi è l'incognita di questo inizio di campionato. Carlo Giulietti, volevo sapere in questo momento un po' particolare i giocatori come hanno vissuto emotivamente questo momento, come hanno reagito e poi cosa ti aspetti dalla tifuzione del Perugia che storicamente nei momenti difficili si è sempre stretta vicino ai colori sociali, è una cosa importantissima. Guarda parto dall'ultima parte della tua domanda e non ne avevamo ancora parlato, forse ne avevo parlato con qualcuno di voi. Quello che è successo a fine partita a Gubbio è qualcosa di fondamentale per i ragazzi. A Gubbio i tifosi ci hanno fatto sentire quanto veramente sono attaccati a noi i giocatori o alla squadra, ma a questa maglia non ce n'è mai stato nessun dubbio, però ci hanno fatto capire quello che veramente conta per loro in questo momento. È stato un attestato di stima nei confronti dei ragazzi che i ragazzi hanno recepito. La prima parte della domanda, scusa. Come lo può aver vissuto il mio staff, come lo posso aver vissuto io? È logico che, ripeto, non è come preparare una partita alla quarta giornata di campionato, ma per un allenatore nelle scelte, nel capire chi può avere un centimetro di cervello spostato verso il mercato piuttosto che alla Lucchese. Di sicuro io ho detto ai ragazzi che non voglio giocatori e non metterò giocatori in campo che penso che nell'ultimo giorno di mercato stiano al telefono col procuratore invece di pensare alla partita. È logico che sono tutti professionisti, però io devo fare le scelte in base a quelli che penso che siano concentrati al 100% sulla Lucchese e non su nient'altro e lo farò. Però mister Antonello Ferroni, messaggero, la domanda che volevo farti è questa. Adesso ti volevo chiedere questo. In queste ore immagino avrai avuto modo di interlocuire con la società, col Presidente. Come è stata recepita la sentenza del Consiglio di Stato dalla società? Se ti ha trasmesso quali sono i programmi, quali sono gli intendimenti, quali sono quello che accadrà nel futuro immediato e a livello anche di società? Quali sono i programmi, gli obiettivi? Allora, come abbiamo già detto e come avevamo già detto eravamo pronti, Jacopo, la società era pronta insieme a me naturalmente perché siamo in stretto contatto 24 ore su 24, eravamo pronti con il piano B e il piano A. Ora siamo ufficialmente sul piano B e il piano B è quello di farci trovare pronti negli obiettivi che avevamo. È logico che questa squadra è una squadra, e lo sappiamo tutti, che va completata. Jacopo e il Presidente sono partiti stamattina per Milano, abbiamo parlato prima della loro partenza, quindi siamo in stretto contatto, sappiamo quello che questa squadra ha bisogno per essere completata, però poi io dopo mi devo concentrare sulla Lucchese e l'ho fatto da quando ci avevano rimesso in Lega Pro, quindi è da allora che sto preparando questa partita, ma in questo momento io ho bisogno di concentrarmi sulla partita e ho la massima fiducia per quello che è il lavoro di Jacopo in questo momento. Sì, ciao, ho corrato lo sito del messaggero. Mi ricollego alla domanda fatta da Antonello, quindi diciamo si darà fiducia ai giocatori che hanno fatto un pochino questi amichevoli, diciamo, e più anche gli ultimi arrivati che ho avuto la possibilità anche di valutare. Ma li ho fatti giocare tutti nelle amichevoli perché i ragazzi si sono comportati benissimo e quindi li ho alternati e li ho fatti giocare tutti. Dopo l'allenamento farò le convocazioni, farò le convocazioni, ripeto, le farò in base alle mie sensazioni su quelli che possono essere i giocatori realmente concentrati sulla gara di domani perché inizia un campionato. Il Perugia l'anno scorso è retrocesso, se non mi sbaglio, per un punto e un punto fa la differenza tra vincere e perdere e quindi bisogna iniziare subito a pedalare da domani. E quindi sono concentrato realmente, aspetto la fine dell'allenamento di oggi perché poi ci abbiamo ancora in allenamento e poi dopo farò subito i convocati. Mister, un giudizio sugli ultimi arrivati, Kudrik e Adamonis. Kudrik è un ragazzo che ha una duttilità importante, può giocare falso 9 come può giocare sull'esterno, addirittura la Juventus verso la fine della stagione ha fatto il quinto. è un ragazzo che ha già fatto delle partite nei professionisti, lo conoscevamo, però è logico che in questo periodo, penso che è inutile negarsi che il mercato degli over e quindi dei grandi, tra virgolette, nel Perugia è iniziato ieri, inizia oggi, perché finora abbiamo dovuto per necessità valutare i giovani o, insomma, giovani, giovani però, verso la giovinezza, mettiamola così, perché non potevamo fare altrimenti, abbiamo provato a prendere dei giovani naturalmente che in caso di B avrebbero potuto essere buoni giocatori anche in B, in parte secondo me ci siamo riusciti senza far nomi, però io sono contento dei giovani che abbiamo preso, dei ragazzi che abbiamo preso, sono veramente contento. È logico che ora, in questi due giorni, dobbiamo cercare di sistemare un po' i tasselli di giocatori di una certa esperienza, secondo me, insomma, in questo momento abbiamo bisogno di quello. Sì, buon pomeriggio Baldini, Giancarlo Pacini, Umbria TV, le volevo chiedere questo. Credo che anche lei abbia avuto la percezione che dal suo arrivo la città si sta ancorando a lei, come timoniere, questo uomo che deve cercare di risollevare quantomeno il morale di una stagione solo sportiva, perché forse le disgrazie nella vita sono altre, non è una retrocessione. Baldini, che campionato si aspetta da questo gruppo che lei sta sostenendo e in qualche maniera sta anche apprezzando molto, perché le aspettative sono probabilmente estremamente alto dopo purtroppo il verdetto di ieri dal Consiglio di Stato. Grazie. Non penso che alla fine del mercato il Perugia sulla carta sarà la squadra più forte del campionato. Penso che però lo possa diventare con il lavoro quotidiano, anche se sembra una fase fatta, ma non è così, nel senso che, dico questo perché vedo nei ragazzi e nella squadra che stiamo costruendo margini di crescita importanti, quindi mi sta bene in questo momento non essere, ho letto, tanto si leggono sempre, chi sono le favorite, dette da Tizio, dette da Caio, non ho mai letto il Perugia, ma mi sta bene così, perché sono convinto che ho buone sensazioni per quanto riguarda quello che mi stanno dando i ragazzi e quello che devono dare i ragazzi lo sanno, quello che devono dare i ragazzi, perché quando non c'è la squadra più forte devi metterci qualcosa in più e i ragazzi sanno che si devono mettere qualcosa in più. Ieri ho detto ai ragazzi che in C non si vince solamente, ora noi stiamo lavorando, provando a giocare a pallone, ma se noi pensiamo ad andare a Lucca, se noi pensiamo ad andare a vincere a Lucca giocando solo a pallone o a vincere a Lucca solo con la tecnica, abbiamo sbagliato di grosso, è un campionato diverso, è un campionato dove ci vuole agonismo, dove ci vuole grinta, dove ci vuole voglia di vincere, questa si costruisce nel tempo. La situazione che c'è stata, è logico che un allenatore non deve mai chiedere pazienza, però la situazione che abbiamo vissuto magari ci porterà a essere pronti magari tra poco tempo, speriamo più breve possibile, però questa squadra mi dà sensazioni positive, quindi poi dopo quando una squadra dà sensazioni positive i risultati possono essere di qualsiasi genere. Come valuti questo inizio di campionato, queste prime tre giornate, Lucchese, Pescara e Spalle? Quasi sembra un inizio di serie cadetta. Ci metterei anche il Pordenone, perché il Ponte dei Pordenone, ci metterei anche il Ponte d'Era, perché il Ponte d'Era ha un allenatore bravo e quindi l'inizio diciamo che non ci ha voluto così bene, però poi dopo bisogna affrontarle tutte. Non penso di essere la squadra, che siamo noi solamente in questo periodo, ad avere i problemi di Amalga, ma siamo tutti nel solito piano perché tutte quante le società di Lega Pro prima hanno dovuto fare le uscite per poter mettere dentro i giocatori, ormai è consuetudine, quindi ripeto anche alla Lucchese gli sono arrivati i giocatori in questi giorni, come stanno arrivando alla Spalle, quindi le difficoltà sono uguali per tutte. È logico che incontri Lucchese, Pescara e Spalle subito così, non è semplice. Solo un giudizio su Adamonis, anche visto che è arrivato qualche ora fa. Adamonis è un ragazzo che negli ultimi anni non ha giocato molto, ma per scelta della Lazio, nel senso che sapeva di avere un portiere forte e l'ha sempre, tra virgolette, voluto dentro o a parte quelle poche esperienze che ha fatto fuori, quindi questa scelta della Lazio secondo me ha limitato un po' quelle che potevano essere le prestazioni o le presenze di questo ragazzo. È un portiere che non ho sentito, naturalmente che conosciamo perché abbiamo studiato, perché però non c'è stata una persona tra gli addetti ai lavori che mi ha parlato benissimo di questo ragazzo. Quindi dopo averlo studiato, dopo aver analizzato, dopo aver ragionato su quelli che erano i portieri, abbiamo deciso di inserirlo dentro e è secondo me un acquisto di valore.